L'internazionalizzazione commerciale delle imprese è cruciale per la competitività e la crescita del sistema. A suo parere, cosa bisogna fare per esportare di più? Intanto è sempre più evidente che con un mercato domestico che non cresce, siamo sempre più legati ai processi di internazionalizzazione se vogliamo che la nostra economia riprenda a crescere. Ci sono molte cose da fare, intanto è evidente che abbiamo un problema dimensionale, imprese più piccole hanno maggiore difficoltà a raggiungere mercati più lontani, quindi aumenti di produttività e aumenti di dimensione sono assolutamente necessari. Poi bisognerà cercare di far sì che qualche decina di migliaia di imprese che esportano, ma esportano occasionalmente e non ammontare i sufficienti, diventano più internazionalizzate, cioè sviluppino delle forme di internazionalizzazione più sofisticate e più adeguate a quelle che sono le necessità di un mercato mondiale che è sempre più complesso. Grazie.